Siamo così arrivati al capitolo finale, capitolo finale che esplode nella rissa di tutti contro tutti, come in un film di gangster, che alla fine tutti sparano e non si capisce più chi abbia torto e chi abbia ragione, anzi tutti hanno torto in questo finale. Noi eravamo rimasti, torna al magro deluso dalla spedizione in Cile, a questo punto saranno anche chiamati i Cileni, dove non trova niente e quindi come da patti prende quello che il re gli aveva promesso. Quindi secondo i suoi calcoli e la sua lettura di quel contratto, Cusco. Capite che la situazione per i non Cileni, i uomini di Pizarro, diventa veramente difficile, anche perché la prima mossa di Almagro è quella di prendere il suo odiato rivale, Ernando, il fratello maggiore di Pizarro, e di rinchiuderlo in prigione. A questo punto devono però arrivare a un compromesso, perché c'è un editto del re da una parte e poi c'è anche la legge del re che si deve rispettare, perché non si può mettere in prigione chi si vuole o peggio uccidere i propri rivali. E quindi si arriva a un patto tra gentiluomini sotto giuramento, quindi vedete che questo viene fatto in una chiesa, con l'ostia, con tutti i simboli religioni, dove Ernando Pizarro viene liberato, in cambio giura di tornarsene tranquillo in Spagna. Mentre Almagro avrebbe governato Cusco, come da sua interpretazione della legge, subì udice al parere del tribunale spagnolo se confermava quello che lui aveva capito essere d'accordo da quel momento. Nando Pizarro esce da Cusco e ha solo uno scopo, solo un obiettivo, uccidere Almagro. Ma come sarà sotto giuramento? Ma che cosa gli interessava di un giuramento? Che erano parole di un rituale, poteva dire qualsiasi cosa. E poi in quel mondo si trova sempre un frate che ti toglie il giuramento, basta pagare. E quindi si toglie il giuramento con una magia, una magia d'oro e va a uccidere il suo rivale. Torna Cusco con un esercito, cattura e giustizia il rivale. Francisco Pizarro, il boss, il fratello che guida l'operazione, fa finta di non saperne niente perché in quel momento capisce che il fratello sarà imprigionato. Le leggi spagnole non permettono, o questo Far West, queste bande che si uccidono a vicenda, questi gangster anti-elite. Quindi fa finta di niente perché solo in questo modo può evitare la prigione, una prigione che Ernando non riuscirà ad evitare, passerà vent'anni in Spagna, imprigionato per fortuna e l'onore delle leggi spagnole. Arrivato a questo punto di decadimento morale, etico e quanto altro si possa immaginare, Pizarro, Francisco Pizarro, decide di farla finita con gli Inca e di sterminarli a piacere. Quindi cerca prima un accordo con Manco e Manco gli dice Manco Pacapa, e poi passiamo a fidarsi di questi spagnoli che hanno sempre raccontato bugie. Allora resta in mano di Pizarro la povera moglie o concubina di Manco o cura o oclo, che viene torturata in pubblico, ammazzata a spizzichi bocconi. E poi dopo che hanno ammazzato la moglie di Manco, uno per uno ammazza anche tutti i notabili. Terza frase è margine a tutti gli uomini di Almagro, era troppo. Il re che viene a conoscenza di queste cose non può tollerare assolutamente questa situazione e quindi da questo momento in poi non può accettare che Pizarro faccia bello il cattivo tempo, a suo piacimento col fratello che ha ucciso il rivale addirittura. Allora prende e manda in Perù un nuovo governatore, questo personaggio che è Varca de Castro, per fare giustizia e difendere gli uomini di Almagro. Ma cosa succede? Siamo sempre in acque tempestose. Di ogni parte della vicenda, delle relazioni degli uomini, alle relazioni con la natura, quindi abbiamo tempeste furibonde e in queste tempeste furibonde naufraga il nuovo governatore, Barca de Castro. A quel punto viene dato come morto nel naufragio. Non sarà vero, non sarà così, sarà riuscire a sopravvivere, ma lo sapremo dopo. E addirittura gli uomini di Almagro, che avevano auspicato l'arrivo veloce di questo nuovo governatore, capiscono che non hanno più chance. Anzi, si convincono che sia stato lo stesso Pizarro a uccidere Varca de Castro. Allora non gli spetta che farsi giustizia da solo. E in questa logica di farsi giustizia da solo, improprio, si armarono e un gruppo di sedici congiurati entrò velocemente furtivo nella casa di Francisco Pizarro, non difeso dai suoi scudieri, chiamiamolo così, non fece a tempo a indossare la corazza. e come vedete in questa scena morì in questa faida. Bene, a questo punto cosa succede? Che gli uomini di Almagro capiscono che hanno preso una posizione da rinnegati e che quindi appena arriverà qualche altro nuovo governatore al posto di Pizarro saranno condannati. Devono far credere, far passare questa loro vicenda interna in una sollevazione di popolo, in una rivoluzione. Ma non riescono in questa manovra. Il Marchese della Conquista, il titolo nobiliare che aveva avuto Pizarro, giace ora morto e sarà vendicato da Carlo V. Non è così facile creare una rivoluzione popolare. Ci tentano, ma alla fine non ci riusciranno. Per l'opinione pubblica, gli uomini di Almagro sono una banda di traditori. Contemporaneamente, il nuovo governatore, che si pensava morto nel naufragio, arriva, si presenta e mette ordine. Doveva proteggere un manipolo di uomini di Almagro che subiva le avversazioni di Pizarro, ma nel frattempo era successo l'esatto contrario e quindi condanna a morte gli uomini che era venuto a difendere. era questo forse il giusto finale per questa vicenda. Dove tutti sono contro tutti, dove non c'è morale, tutti si sbranano l'un con l'altro per che cosa? Avidità. Uomini bestia regolati solo da leggi selvagge del più forte. E questi uomini bestia finirono sconfitti tutti. Non si salvò nessuno. La storia come può andare avanti in questa vicenda? No, la storia non poteva forse sopportare questa deriva morale e non diede scampo a nessuno. La giustizia batterà, processerà gli uomini di Almagro che finirono sulla forca. Gonzalo Pizarro, il fratello minore di Francisco insorge e per sette anni tiene un potere rivoluzionario inteso in chiave di guerriglia contro il governatore spagnolo finché verrà sconfitto e giustiziato e ne abbiamo l'ultimo preso. Adesso la domanda vediamo se riesco a respirare ancora per un poco e arrivare alla fine del mio racconto abbiamo ancora Manco Manco è vivente ancora per poco fino al 44 dove viene ucciso a tradimento ma la ribellione va avanti insorge nel regno di Wiccabamba e continuò poi con i suoi figli fino al 71 quando il terzo l'ultimo signore Tupac Amaro venne giustiziato da un nuovo vicere Francisco de Toledo Tupac Amaro i Tupac Amaro sono guerrieri della seconda parte del secolo scorso che hanno preso nome da questo ultimo Inc da martire fu catturato Tupac Amaro e diventerà un mito della sinistra ma la storia prende i personaggi del passato per farne per creare dei valori e creare dei richiami adesso guardiamo gli ultimi passi di Pizarro Pizarro l'abbiamo lasciato morto con spade e pugnali nel corpo e raccontiamo un po' della sua organizzazione familiare nel senso che non si era mai sposato però aveva avuto spose le figlie dei nobili indigeni che aveva fatto di tutto per regolarizzare questa posizione decide sull'ultima sposa di darla in moglie al fratello che era in Spagna in prigione affinché facesse un figlio e ci fosse una discendenza non aveva lui avuto figli dalle principesse che aveva impalmato e adesso dove siamo in questo racconto siamo alla fine e parliamo di colonialismo il colonialismo è una delle tante prevalicazioni dell'uomo bianco ma bianco dell'uomo che si ritiene più civile di un altro perché se fosse credo che sarebbe trasversale in tutte le culture quindi direi dell'uomo in genere dove il lucro prevale su ogni cosa l'aggressività la bestialità dell'uomo viene allo scoperto protetta e mascherata dalla religione grande scuola di ipocrisia qualcuno parlerà con alzardo di civilizzazione si dice ogni volta civilizzazione ed è sempre la stessa menzogna lo dirà anche il fascismo quando andrà in Africa l'uomo che niatta dirà quando sono arrivati qui i bianchi avevano con loro solo la Bibbia mentre noi avevamo le nostre terre ci hanno insegnato a pregare con gli occhi chiusi quando li abbiamo aperti i bianchi avevano le nostre terre e noi avevamo la Bibbia ecco mi spiace aver cancellato il volto il volto di kenyatta ecco questa finisce qui la storia non ho neanche più la voce per continuare come potete vedere ed è la storia della prima colonizzazione non sarà l'ultima quella dell'uomo bianco e dei danni che farà porteremo la civiltà questa è che è civiltà assolutamente no tant'è vero che gli spagnoli che cosa hanno goduto di questo e niente hanno consumato quell'oro che avevano senza rimetterlo nel ciclo produttivo senza diventare più ricchi non hanno imparato niente e saranno conquistati poi a loro volta mi è scritto che chi non impara niente poi alla fine è preda gli avversari più organizzati o forse più famelici brutta storia brutta storia che l'ho raccontato una pagina di storia che non non si può sottrarre all'opinione pubblica non si può sottrarre al racconto ma di pagine di storia sono spesso orribili tutte le mie lezioni di storia passano dalla guerra che è una cosa orrenda e senza senso perché poi più delle volte non avvantaggia il vincitore come vedremo sono solo morti in un deserto di anime va bene ho finito la voce grazie dell'attenzione grazie Grazie.